Emanuele Severino, tanto gentile, tanto garbato, tanto cortese, era però un mostro in filosofia ed era spietato verso le critiche dei contestatori. Io più leggo dei suoi confronti con altri pensatori e più non mi capacito di come possa aver fatto a elaborare, a produrre un simile contenuto. Poi mi ricordo che in realtà non ha creato nulla secondo il suo pensiero, perché la mente umana non produce contenuti. Non è possibile la produzione perché sarebbe una dinamica nichilistica. Quindi il fatto stesso che il suo contenuto sia qualcosa di prodigioso, di straordinario, conferma ancora di più uno dei punti delle sue tesi, cioè che la mente umana non crea nulla, perché altrimenti non sarebbe possibile che una mente umana possa aver creato qualcosa di così incredibile, straordinario, rigoroso. Ci troveremo dinanzi a qualcosa di divino, cioè un prodotto alieno di altre dimensioni, di una mente che sta ben oltre il livello umano, di parecchie spanne. E quindi questo avvalora ancora di più il discorso di Severino. Severino è incredibile perché è stato un testimone di un contenuto, cioè di una struttura razionale iper rigorosa, perfetta, che è apparsa in modo comunque parziale, perché non è apparsa tutta la struttura originaria, è apparsa in parte e lui è stato incredibile e capace di testimoniare quel contenuto. La grandezza della sua mente, ed è già tantissimo, è stata quella di essersi connesso prima di altri a una struttura così prodigiosa. E voglio specificare perché sono così, diciamo, coinvolto e emotivamente preso da quanto sto dicendo. Perché più leggo dei confronti che Severino ha avuto con altri pensatori, più mi rendo conto che quella struttura così rigorosa l'avevo già in parte intuita e lui la estremizza, la radicalizza, non si fa problemi. Io a volte diciamo che mi sembra quasi scortese andare a fare delle critiche troppo, come potrei dire, troppo spigolose, che potrebbero sembrare pedanti. Lui invece no, e fa bene, ha fatto benissimo a fare così. Straordinario, incredibile e mostruoso, veramente spietatissimo nelle sue critiche. Io vi invito davvero a leggere le risposte che lui ha dato ai suoi critici, a vari suoi critici. È spietato, non ha fatto sconti di nulla, non ha fatto sconti di nulla, anche rispetto ai logici, agli analitici con cui si è confrontato. Ma si evince proprio la padronanza totale innanzitutto della filosofia. È mostruoso anche perché è stato uno dei migliori conoscitori della filosofia, anzi il migliore, perché non solo a livello formale ha mostrato di conoscerla in modo perfetto. Ma anche perché, a differenza di tutti gli altri, ha rilevato delle contraddizioni mai constatate da altri pensatori, quelle del divenire. E non è semplicemente una contraddizione, non è semplicemente l'idea nichilista del divenire, ma tutto quello che poi si è fondato su di essa. È mostruoso il contenuto che lui ha espresso. È incredibile e già il fatto che lui sia stato in grado di testimoniarlo è qualcosa di encomiabile. Cioè la grandezza di Severino è immensa anche solo pensandolo come testimone di quel contenuto. Veramente ci troviamo di fronte a qualcosa di incredibile. E chi non riconosce la grandezza di questo contenuto è semplicemente perché non l'ha capito, non l'ha approfondito, non l'ha studiato o non l'ha capito. Punto, non c'è altra discussione. Infatti chi invece ha mostrato di capirlo, perché innanzitutto ha mostrato di riportare in maniera precisa il contenuto formale del suo discorso. O lo rispetta, pur criticandolo, o ne ha enorme stima e conviene col suo contenuto. Terzium non datur. Detto questo, il suo pensiero è radicale, rigoroso, pone una sfida enorme a livello filosofico perché impone una revisione di tutta la rappresentazione che abbiamo della realtà, o quasi, e quindi anche una messa in discussione di una quantità enorme di pregiudizi esistenziali e poi ovviamente filosofici che agiscono a un livello sottile e implicito per quanto riguarda le valutazioni, le analisi e le prese di posizione in filosofia. Voglio anche dire che, ecco, sempre rispetto alla logica, perché a me colpisce poi il modo in cui lui abbia mostrato con un rigore ineccepibile la correttezza formale del suo discorso. La correttezza formale non si dimostra semplicemente adottando dei simboli, cioè formalizzando con un linguaggio un certo contenuto. No, 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 quella è condizione, potremmo dire, neanche sufficiente, oltre che non necessaria. Non sufficiente perché ovviamente non basta semplicemente schematizzare un contenuto di quella portata per averlo formalizzato in modo rigoroso. e anzi è dubitabile che sia possibile per una serie di motivi, per una serie di motivi che mi piacerebbe poi approfondire in altri video anche. In parte sono stati già detti dei motivi, magari qui farò un breve accenno, e non è condizione neanche necessaria perché può aiutare schematizzare un pensiero con un linguaggio estremamente formalizzato, può aiutare alla comprensione di quel pensiero, ma non è condizione necessaria per dimostrare la veridicità e la correttezza stessa di quel pensiero, di quel contenuto lì. Ma il problema fondamentale di certe pretese di stampo analitico e logico è che la logica formale, quella che si occupa solo della correttezza formale è completamente sbagliata rispetto al contenuto del discorso di Severino. In che senso è sbagliata? È infondata. Cioè la logica formale si costituisce mediante degli assiomi che sono postulati, cioè non hanno una base incontrovertibile a monte, sono frutto di una congettura, di una convenzione, di un accordo intersoggettivo e non è sufficiente questa base per fornire un valore invece di cogenza, di necessità alle regole di inferenza, ai principi che stanno a monte del modo di combinare le premesse con le conclusioni e poi il valore stesso delle conclusioni. Se alla base di tutto vi è solo un valore ipotetico, da postulati, da assiomi, il risultato che avviene in certi sistemi non può che avere a sua volta un valore ipotetico, lo stesso valore ipotetico che hanno gli assiomi e quindi che ha la base dei postulati. Non è possibile altrimenti contravvenire a quanto detto significherebbe contravvenire alle stesse regole della logica formale a quel punto, perché questo ragionamento è incontestabile. Quindi anche la necessità all'interno di quei sistemi, dei sistemi basati su postulati alla fine, è una necessità relativa, contingente potremmo dire, e quindi non è veramente una necessità, è una necessità tra virgolette, è una necessità tra virgolette. Come indica Severino e come già avevo intuito io, la logica formale non è minimamente in grado di dimostrare la necessità di quegli assiomi, la necessità di quei postulati e quindi la necessità del modus ponens, del modus tollens, della struttura sintattica dei sistemi logici. Non è in grado di farlo e non problematizza mica questa incapacità relativa di dimostrare al suo interno quelle necessità. No! Come la filosofia analitica, diciamo, è incline a questo atteggiamento, così anche la logica formale. Perché continuo a insistere sulla logica formale? Perché lì non si può dire che i postulati siano sostenuti, gli assiomi insomma, siano sostenuti da un'evidenza. E no! Nella logica formale non c'è una base evidente su cui poggiare la necessità degli assiomi. E no! Perché la logica formale si rivolge alla validità del ragionamento astratto, cioè a prescindere da qualunque riferimento con la realtà e con la verità! Con la verità! Quindi la verità non sussiste affatto nei ragionamenti logici formali. Il valore di verità è completamente, non dico alterato, il valore di verità nei sistemi logici è, non dico uno simolo, no, però non è verità in quanto tale. Attenzione, si parla di verità, si usa impropriamente quel termine quando si parla in quei termini di verità. La verità non è semplicemente qualcosa di formalmente corretto. La verità è l'aderenza di un enunciato alla realtà. C'è poco da fare. Poi ci possono essere tante altre definizioni, ma questa è quella basilare. Cioè la verità, poi se volessimo dirla tutta severinamente, è l'essersi dell'essente. Cioè è vero tutto ciò che corrisponde alla realtà, cioè a ciò che è, a ogni aspetto della realtà. L'albero è verde? È vero che l'albero è verde, quell'albero particolare è verde, perché è vero che quell'essere verde di quell'albero è assieme a quell'albero ed è vero che quella relazione di quelle diverse determinazioni che compongono l'albero è quell'essersi di quell'insieme, come è essersi ogni sua singola parte, ogni sua singola determinazione. Quindi la verità è l'essersi alla fine. E la verità è tale quando mostra anche di essere verità. Cioè mostra la certezza di sé medesima. E a tal proposito neanche l'evidenza fenomenologica da sola è sufficiente. Perché l'evidenza fenomenologica da sola non è in grado di escludere la possibilità che il piano fenomenologico sia intrinsecamente contraddittorio e che i suoi contenuti siano equivalenti a ogni altra cosa. Quindi da solo il piano fenomenologico non sarebbe in grado di escludere tale scenario. Ma siccome non esiste un piano fenomenologico separato dall'incontradittore da logica. Non c'è problema in realtà. Ci sarebbe se il pensiero nichilista isolante avesse tra virgolette ragione separando il piano logico da quello fenomenologico. I due piani non sono separabili e non sussisterebbero l'uno senza l'altro. Anche il piano logico senza alcuna evidenza senza alcuna apparire non sarebbe niente. I suoi contenuti sarebbero completamente infondati e non si non si potrebbe in alcun modo escludere la possibilità che quei contenuti possono equivalere ad altro. Nella logica formale dire che A uguale A è un'ipotesi, è un postulato, nulla lo garantisce. C'è solo un accordo intersoggettivo che a sua volta non è in grado di escludere quella possibilità. E se la esclude è solo per volontà, non per necessità. Dove anche il termine necessità non va confuso con le esigenze della volontà. Ma la necessità è qualcosa di intrinseco, cioè che risulta tale a prescindere da qualunque intenzione e volontà. Allora, che ogni cosa sia se stessa e non altro non è frutto della volontà di qualcuno di interpretare o di volere che le cose siano così e non altrimenti. È impossibile che le cose non siano altro da sé, che le cose siano altro da sé, perché per esserlo dovrebbero essere innanzitutto se stesse. È impossibile che A sia non A, perché per essere non A deve essere prima di tutto A, in modo incontrovertibile, perché se fosse A non se stessa da subito, in origine, non potrebbe neanche non essere se stessa. Perché non essere se stessa si determina rispetto a quella A. Il non essere di A, persino da parte di A, che è assurdo, è possibile solo se è determinato rispetto a quella A. Ma se A non fosse già da subito determinata perché non coincidente con sé e quindi non è non determinata, non potrebbe esserci neanche la sua negazione e quindi non potrebbe neanche esserci lo scenario in cui A non è A. E quindi questa è una necessità che prescinde da qualunque intenzione. E la negazione di questa necessità finisce per autonegarsi perché deve assumere sempre quello che intende negare, cioè deve assumere l'identità incontrovertibile di A, cioè deve assumere A come incontrovertibile per negare che sia incontrovertibilmente A. E questo non c'entra nulla col fatto che le parole, i termini, i simboli abbiano un valore relativo e contingente, arbitrario anche, a volte. Non c'entra nulla, perché nel momento in cui in un qualunque sistema logico, in un qualunque discorso si adotta un simbolo con l'intenzione che esso significhi qualcosa di determinato, si assume che significhi quel qualcosa di determinato e non altro. E questo significa già assumere la struttura originaria a un livello implicito, cioè significa già assumere la necessità che quel che si dice e quel che è e non altro. Che non è una semplice constatazione, così una tautologia, ma è il riconoscere che siccome tutto è se stesso e ogni significato significa se e non altro, è impossibile che diventi altro. È impossibile che una cosa diventi altro perché si produrrebbe una situazione autonegantesi. Infatti A per diventare B dovrebbe poi esserlo, ma come può A che non è B essere B? E attenzione, non è che Severino o chi fa notare questo presupponga che A non possa essere B, ma si fa notare che per diventare B è necessario in quello stesso pensiero onichilista isolante, errato, che A sia posto come incontrovertibilmente identico a sé e differente da B per poter prospettare che diventi B. Lo ripeto, per prospettare che A diventi B serve supporre che A sia differente da B in modo originario, perché se così non fosse A sarebbe già equivalente a B allora e quindi non potrebbe diventarlo, lo sarebbe già. Il passaggio non sarebbe possibile, perché il risultato ci sarebbe già prima del passaggio, rendendo impossibile il passaggio, rendendo impossibile il divenire, rendendo impossibile la trasformazione. Ma la differenza che è necessaria affermare come incontrovertibile tra A e B nel pensiero onichilista esige anche un'altra cosa, cioè che A sia A e B sia B, cioè che A coincida con A e non con B, perché è solo rispetto alla sua identità, l'identità di A con A e l'identità di B con B, che è possibile avere il loro differire, cioè la differenza è tale rispetto a un'identità. Quindi senza identità non ci sarebbe neanche il differire e neanche la possibilità di avere l'impossibile trasformazione di A con B. Quindi è per quello che A non può diventare B, è impossibile a priori, perché è un passaggio autonegantesi, perché nel momento in cui si riconosce che A per diventare B deve essere incontrovertibilmente diverso da B, è impossibile dopo aver accolto questa base non arrivare a una contraddizione autonegantesi nel sostenere che A è divenuta B, anche introducendo l'idea aristotelica di tempi diversi, cioè dicendo che sì, un ente non può essere un altro, ma può esserlo in momenti diversi, cioè A in un certo momento può essere A e in un altro momento può essere B. La contraddizione sarebbe solo se, avverrebbe solo se A fosse anche B nel medesimo rispetto. No, non è semplicemente così. Non è risolvibile solo in questo modo. E io ho fatto anche un video dove ho richiamato la spiegazione di Severino rispetto ai limiti e le contraddizioni del principio di non contraddizione aristotelico. Non è che si critichi il nucleo del principio, che l'elencos invece è rigorosamente valido. E Severino lo ha portato ai livelli superlativi. ma è la formulazione aristotelica che temporalizza quel principio a essere fallace. Comunque, il problema è questo, che anche supponendo tempi diversi in cui A sarebbe in un tempo A e in un altro B, è sempre di A in un certo tempo che poi si dice essere B. Non è di B che si dice essere B, è di A che si dice essere B. Quindi introdurre l'escamotage dei tempi diversi non risolve il problema. Lo elude solo. A in T1 è A. A in T2 si dice essere B. In T2 è sempre di A che si dice essere B. Non è più di B solo, ma è sempre di quell'A che in T1 si diceva coincidere con A che in T2 si dice essere B. Se poi si volesse interpretare diversamente la trasformazione dicendo che non è A che diventa B, ma che A e B sono solo forme di una sostanza e che quindi siano solo caratteristiche, siano proprietà, siano determinazioni, che vanno e vengono, oscillano tra l'essere e non essere, ugualmente non si sarebbe risolto nulla. Io non è che stia presupponendo che l'unico modo di pensare alla trasformazione sia di pensare che A diventi B. quello sarebbe comunque il modo più proprio e consono, ma semplicemente mi limito a analizzare le varie possibilità di interpretare il divenire. O il divenire è la trasformazione di qualcosa in altro, o è l'annullarsi di qualcosa e il crearsi di qualcos'altro. Non è che ci siano altre possibilità, perché se non ci fossero queste possibilità come selezionabili, allora il divenire sarebbe semplicemente l'apparire degli eterni. Non c'è un'altra possibilità. O la variazione del mondo va letta in termini nichilistici di trasformazione, annullamento e produzione di qualcosa. O è l'apparire degli eterni, non è che ci sia un'altra alternativa. E se è l'apparire degli eterni tutto si risolve perfettamente, però il nichilismo non lo accetta e allora bisogna far notare tutte le contraddizioni ha avuto negantesi del nichilismo. Il nichilismo non accetta che sia necessario che tutto sia eterno, che sia l'unica lettura corretta del mondo e che sia eterno ovviamente in senso atemporale, non nel senso che tutto esista in ogni istante, perché quella sarebbe una ipotesi e non una necessità immediatamente negata dalla realtà, dall'evidenza. Allora, o dicevo il divenire va letto come trasformazione, o come annullamento e produzione di qualcosa. Tra parentesi, in realtà la trasformazione di A in B implicherebbe comunque un annullamento della forma di A, una creazione dal nulla della forma di B. Dico creazione dal nulla perché anche se la forma di B fosse contenuta in potenza in A, la sua forma in atto sarebbe nulla prima di crearsi. Perché se la forma in atto di B fosse già in A prima di prodursi, esisterebbe B già in atto in A prima di crearsi, il che è sempre una contraddizione assurda. E qui si potrebbe anche parlare del passaggio dalla potenza all'atto, che non risolve i problemi ma li amplifica i problemi inichilistici. Già ne ho parlato anche di questo, ho fatto dei video dove ho parlato del problema del passaggio dall'atto alla potenza, il fatto che l'essere in potenza implichi il nulla dell'essere in atto. Cioè l'albero in potenza in un seme è l'essere nulla del suo essere in atto. Perché se nell'essere in potenza dell'albero ci fosse anche già il suo essere in atto albero, non ci sarebbe l'essere in potenza. L'essere albero sarebbe già in atto nel seme, il che è anche una contraddizione. Dunque, c'è sempre un passaggio unichilistico in qualche termine, in qualche cosa. E per ulteriori approfondimenti magari vi invito a guardare sia i video dove ho parlato di ciò, ma ancora meglio, studiare le sue opere, studiare approfonditamente e rigorosamente le sue opere. Perché qui ci troviamo di fronte a più che un genio, ci troviamo di fronte alla filosofia che ha preso corpo, che ha testimoniato tutto un percorso, senza però annullarlo, ne ha testimoniato i risultati, le conquiste, ma anche le contraddizioni, portando un contenuto inedito, inaudito nelle sue opere. La trasformazione quindi già comporta aspetti nichilistici. Ma se anche volessimo evitare di pensare che A diventi to cure B, ci sarebbe allora un altro problema, cioè dovremmo allora sostenere in una concezione non eternistica che A esista in T1 e in T2 non esista più, e che B non esista in T1 ed esista in T2. Ora, che A non esista più in T2 significa che a un certo punto debba aver smesso di essere, perché smettere di esistere implicherebbe automaticamente smettere di essere. Non potrebbe A continuare ad essere A, cioè ad essere un positivo essente, senza esistere più da nessuna parte. Se esistesse solo l'apparire finito, quello che Severino chiama apparire finito, cioè la dimensione che il nichilismo crede essere una realtà diveniente, e non ci fosse l'apparire infinito, questo sarebbe il risultato, la conseguenza. E però per avere che A non esista più, come dicevo, significa ciò che A abbia smesso di essere. E smettere di essere non è qualcosa che A possa non subire, ma è la sua massima radicale mutazione. Smettere di essere vuol dire la massima alterazione di A, altro che trasformarsi in B, che è già impossibile. Significa addirittura perdere e smettere di essere se. E se non è quella la massima mutazione possibile, quale dovrebbe essere? Che poi sia impossibile, perché è impossibile che A, smettendo di essere muti in senso nichilistico, nel non essere, quello è un ulteriore problema, che ancora di più enfatizza l'impossibilità che A smetta di essere. Quindi, lungi dall'essere un motivo che escluda che A diventi nulla nel nichilismo, è un motivo ulteriore che rende impossibile il nichilismo, il divenire nichilistico. Proprio perché A non può smettere di essere, perché non può neanche essere in quella condizione, allora è impossibile che A cessi di esistere, perché cessando di esistere smetterebbe di essere. E se A non smettesse di essere, non smetterebbe di esistere mai, ovviamente. E smettere di essere implicherebbe un momento autonegantesi, dove A dovrebbe coincidere con il suo nulla, con il suo annullamento, dovrebbe entrare nel passaggio del suo annullarsi. E come? Come potrebbe A, in quanto essente non nullo, a un certo punto rimanere ancora A per passare nel suo annullamento? È impossibile. È impossibile che A, in T1, dove si ritiene esistente ed essente, possa passare nel passaggio da T1 a T2. Perché non sarebbe a quel punto nel passaggio più quella A di prima. Non sarebbe più l'A come positivo, contrario al nulla, quindi opposto al nulla e separato potremmo dire dal nulla. No, in quel passaggio A coinciderebbe con il suo annullamento. E se non coincidesse con il suo annullamento, A non lo subirebbe mai. Se A, in quanto positivo, non passasse nel suo annullarsi, quindi nel suo non più opporsi al nulla, A non potrebbe mai subire l'annullamento, non sarebbe mai A a subire l'annullamento e quindi a smettere di essere e di esistere. E però, se non subisse mai quel passaggio, non dovrebbe mai smettere di esistere. Non potrebbe mai smettere di esistere. E tra l'altro in una realtà nichilista, dove non vi fosse l'apparire infinito, dovrebbe per forza esistere in modo sempiterno, quindi contraddittorio. Contraddittorio rispetto all'esperienza. Quindi nel nichilismo, per affermare il divenire, occorre per forza sostenere che A si annulli. Ma è impossibile comunque. È impossibile che A si annulli perché nel passaggio in cui dovrebbe risiedere per annullarsi, A non sarebbe già più A. Perché a differenza della sua condizione originaria, in cui A è incontrovertibilmente A e non è il suo nulla, quindi si distingue ontologicamente dal non essere, da quella condizione impossibile del non essere A da parte di A, A invece vi coinciderebbe nel passaggio in questione. E coincidendovi quindi non sarebbe automaticamente più un positivo, perché è un positivo, un essente tale solo se, o comunque anche e soprattutto se, non è a nulla. E invece nel passaggio A sarebbe nulla già, perché non si distinguerebbe più dal suo essere non A. E dovrebbe passarvi però per smettere di essere. Cioè a smettere di essere non dovrebbe essere il nulla, ma A come positivo, come essente, è per questo che è impossibile quel passaggio. Ed è irrisolvibile in ogni modo lo si concepisca. Ovviamente come stavo cercando di far capire, anche in altri video, non è possibile semplicemente eludire il problema e dire che basti dire che in un momento c'è un oggetto che corrisponde ad A e in un altro momento nessun oggetto corrisponde alla descrizione di A. Non risolve nulla questo problema e non afferma minimamente il divenire, senza peraltro escluderlo, e senza peraltro escludere le contraddizioni che Severino ha rilevato rispetto al divenire. Quindi è una non risposta completamente inadeguata sul piano filosofico analitico che non risolve nulla. Detto questo, quindi, il divenire è completamente impossibile, è completamente autonegantesi, perché va incontro alla sua stessa autonegazione. Come dicevo, nel divenire si deve assumere che A non sia B per poi prospettare che A diventi B, oppure si deve assumere che ci sia una sostanza sotto A e B che rimanga invariata. E questo non risolve nulla allo stesso, perché nel perdersi di A e nel prodursi di B ci sarebbero comunque degli aspetti nichilistici. Poco importa che non riguardassero il presunto sostrato indeterminato, costante, nel divenire, perché riguarderebbe comunque degli aspetti. Riguarderebbe A, riguarderebbe B, riguarderebbe quindi le determinazioni di quel sostrato e il rapporto, la sintesi tra quel sostrato e quegli attributi. Quindi non risolverebbe nulla anche questa lettura. E come dicevo, in ogni caso implicherebbe l'annullarsi e il prodursi di alcuni aspetti essenti della realtà. Perché per quanto si possa congetturare che A e B non siano esseri in quanto determinazioni, è pur vero e innegabile che A e B in quanto determinazioni sono qualcosa e non un puro nulla. E se non sono nulla, sono automaticamente essenti, quindi sono degli esseri. Non c'è alternativa. O non si è in alcun modo e quindi non si esiste in alcun modo. Oppure se si esiste in qualche modo e si è quindi qualcosa, si è automaticamente essenti. Punto. Fine. Che piaccia o no, è così. Detto questo, io mi avvio a concludere questo video, quindi cercando di sintetizzare la grandiosità del pensiero di Severino. E guardate che vale per qualunque metafisica di riferimento. Anche pensando che il mondo sia un insieme di atomi non si risolve nulla, dal punto di vista anichilista. Perché non esisterebbero fisicamente solo gli atomi, ma anche le loro configurazioni. E quindi quelle configurazioni verrebbero sempre a oscillare tra l'essere e il non essere, cioè gli stati di cose del mondo verrebbero sempre a oscillare tra l'essere e il non essere. E siccome le configurazioni degli atomi del mondo sarebbero aspetti positivi ed essenti, sarebbe anche solo per loro problematico affermare il divenire anichilistico. E quindi qualunque metafisica ponesse anche solo un'oscillazione anichilista di un singolo aspetto, di un singolo essente, andrebbe incontro alle contraddizioni che ha rilevato Severino. L'unico discorso che riesce a evitare l'annullamento, la produzione, la trasformazione anichilista di qualunque aspetto della realtà, persino dell'apparire stesso del mondo, è il discorso di Severino.